Partita alla finale, titolo italiano in palio, Iurio Ormaschi, 10.000 metri ad eliminazione. Portetta di casa, Andrea Menegaldo. Anzi, di Marchiano, Andrea Menegaldo davanti e poi Riccardo Storignocco, ogni due in questa fase e poi Mattia Fiori. Fase ancora senza campane, senza eliminazione, visto che sono 26 gli atleti alla partenza. Vengo a Menegaldo, tra il Locco Piolla. Campana al prossimo giro. Eliminazione al passato. Grazie Piavila, cambio di batteria proprio in tempo per la prima eliminazione. 274 eliminato, 274 per Massi. Luca Sementato guida il gruppo. Questa è stata la prima eliminazione. Sempre Sementato davanti. Poi Pierdicca. Viene ammonito il numero 250. Numero 58 eliminato. Numero 58 eliminato. Numero 58, Lorenzo Silva. Grazie. 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 Spervo Serge Ibarbino. Montro 58, Lorenzo-Evvia. Poi Pierdicca. Prima eliminazione. Montro 58. Per la prima eliminazione. Poi Pierdicca. Poi Pierdicca. Poi Pierdicca. Poi Pierdicca. Poi Pierdiccare. Poi Pierdicca. Poi Pierdicca. Questa è stata la prima eliminazione. Poi Pierdicca. Il numero 101, Ludovico Tuisla. Viene ammonito il numero 153. Rimocco è il numero 153. Buon suo passo, vai, in una seconda posizione. 312, 312 fermati, 312. Riccardo Merlot, 312, grazie. Capire Baglietta, acqua germese, avanti. E si è notevolmente attratto il ritmo sotto la sfida di Gabriele Baglietta. 121 eliminato, 121 fermarsi, 121. Semenzato, grazie. Sempre Baglietta davanti, fai di giri sotto i 19 secondi. Baglietta, pierdiccia, attenzione, spera. Puginie, esterni. Ricacciato iniettale, in una terza posizione. Una gara molto tirata. Gabriele Baglietta ha deciso di fare il ritmo. Quando mancano ancora più di 6 chilometri. 153 eliminato, 1-5-3. Samuele, per l'anti, grazie. Pietta. Picca, Fioretti. Rimocco, Roma Leone. 5-6-5. Dupo completamente allungato. Gran ritmo da parte dei primi. 41-6. Grazie, Lorenzo Battaglia. Troppo eliminato, ma... Dupo si ricompatta, si lotta per la prima posizione. Insiste Gabriele Baglietta. Ha impostato la gara in questo modo, vado davanti e ci sto. Pierdiccia, sembra in una seconda posizione. È una gara completamente diversa dalla precedente. Qui, ritmo infernale. Filippo Santato, eliminazione in posto. 2-8-7. Eliminato. 2-8-7. Filippo Santato, 237. Eliminato. sono una campana. 3-5-6. It's time for the elimination! 3-5. Eliminato! 5-5! Eliminato! 5-6! 5-6! 5-6! 1-6! Eliminato! 11-6! 3-7! Deve lasciare anche in tempo la competizione, quando campana di meno 26, siamo a metà gara, il prossimo passaggio saremo a metà gara, quando è Roma non avanti, deve regola in ora. Ancora Baglietta di forza all'esterno. E' terminato il numero 70. Marco Di Vecchio, è infatti in Royce, e la gara è infatti nel primo del prima, rispetto alla precedente. La cattara con davanti, sempre Baglietta, Romagnone, Menegaldo ha si è piattato in terza posizione, prova a prenderla all'interno. E' anche Luca Zani, si fa vedere nelle prime posizioni. 120 eliminato. La cattara con la campana di meno 22, con Gabriele Baglietta, Romagnone, Marillocco, Finco. La cattara con la rosa, ha tirato pochissimo, ha tirato pochissimo in quinta posizione. Mentre tantissimo è stato davanti, Gabriele Baglietta. 133 eliminato. 133 eliminato. 1-3-3 eliminato. Per passaggi, 133. Grazie. 133 per passaggi. numero 133. Passaggi, grazie. Grazie, grazie. Rilancia ancora, Baglietta, Romagnone, poi Torillosco, Finco, Pierdica all'interno. 250. Niccolò Mbaba eliminato. Quando mancano 18 giri e il gruppo è ancora messo alla frusta dalla grande azione che dura ormai da diversi chilometri di Gabriele Baglietta. Poi Torillocco, poi Manchia Fioretti. Romagnone, Finco, la rosa, Luca Zani. è unito il numero 68. 212 eliminato. Simone Corberto Pio deve abbandonare l'Africa. 212 eliminato per Nassi. In questo momento. sempre Baglietta. Poi Torillocco, Romagnone. Mattia Fioretti. Leopoldo la rosa. Rilassato è a pleca di Siracusa. Teniamo. Mattia è a pleca di Siracusa. 267 eliminato. 267 fermati. Leonardo Martinelli. No! 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 Fortunatissimo. Gabriele Baglietta. Non ci posso collegare. No! E un applauso su America tutto. A trato. Per tanti chilometri. No! No! Fortunatissimo. Veramente. Gran gabino a questo momento. Comunque. Non c'è più lui che tira. Prego che prendiamo un piatto un attimo. e siamo a meno 12. Campana di meno 12. Si fa. All'esterno Mattia Fioretti. Va. Lui. avanti. Riccardo Trillocco. Trova ancora. Mede Galgo. Anche per lui. Torilocco. Fioretti. Leopoldo La Rosa. Federico Romaioni. Luca Zani. Andrea Finco. Questi primi cinque. Quando mancano. Al passaggio. 9 giri. E ci sarà eliminazione. 68. Eliminato. 68. Eliminato. 68. Massimo Pierudicca. Anche per lui. Una. Di testa. Nei primi giri. Campana. Di meno 8. E poi. Eliminazione. Di meno 7. Fioretti. 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 Risale. Leopoldo La Rosa. Non ha tirato un metro. Tattica passata. Fino a questo momento. Per il rapporto a colori. Dell'Olimpia dei patinatori. Fioretti. Rosa. Romaione. Lotta intanto per l'eliminazione. 59. Eliminato per scorrettezza. 59. Fermarsi. 59. Fermarsi. 59. Gianluca Zolo. Grazie. Eh. Sono rimasti in pochi. Mancano 6 giri. Tampoco. Eliminazione. Di meno 5. Fioretti. Torillocco. Torillocco. La Rosa. Romaione. Finco. Intanto. Luca Zanella sterna. Piaccia. Il flottoncino. E questo ne va. Il clavi tirà l'ultimo Giro. Guardi il troppo. Un torno non regalare. Esatto. però anche ai top internazionali latini Numero 16 eliminato Numero 16 con il notto Numero 16 con il notto fermarsi Numero 16 fermarsi eliminato Numero 16 Numero 16 eliminato Numero 16 con il notto fermarsi Luca Zani eliminato Riccardo Tarellotto eliminato Numero 16 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 eliminato Massi Appioretti Massi Appioretti è scuola La campana del notto mio Massi Appioretti è buon rosa Bala